Ma, forse Big Chip ha cambiato idea. Oggi voglio fare un bel quadro. Che cos'hai, Barbabravo? Lassami in pace. Oltrepassiamo la porta del favone. Gli occhiali dalle lenti rosse. La rossa rossella vedrebbe sempre tutto quanto rosso. Bravo, Draghetto Desi. Sei un vero genio. Detti da fare. Amici, state a guardare. Ora diciamo ciao a tutti quanti qua in Cina. Per dire ciao in cinese diciamo... Ni hao! Tu riesci a dire... Ni hao! Per me è divertente. Ora dobbiamo recuperare quel tetto. E io so già chi può aiutarci. Diciamo insieme... Oh, Toodles! Oh, Toodles! Toodles all'opera! Abbiamo dei cerotti, un ventilatore gigante, un braccio meccanico e lo strumentopolo misterioso. Quale strumentopolo può aiutarci per riportare giù il tetto e a tenerlo fermo? All'opera! E? Ma no?